Ciao e ben trovati! Oggi andremo a fare una piccola lezione per lavorare obbligo dell'addome e fiacchi. Iniziamo subito, andiamo in ginocchio. Tieni bene l'addome, andiamo ad allargare alto, inferiore, sinistro. Apri su, espandi bene il torace e pressione sulle scapole. Da qui la tua mano destra va a terra, allunga la sinistra più lontano possibile, petto bello aperto, torna su, fa scivolare la mano sinistra lungo il fianco, allunga bene la destra e fanno ancora due volte, vai, allunga lungo, allungo, tira, espandi e ancora su, schiena bella dritta, scivola lungo l'arte inferiore e allunga. Torna su, cambia l'arte inferiore, allunga, allunga bene il destra, mano sinistra a terra, allunga destra, tira, 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 piano piano, scivola la destra e allunga la sinistra di un occhio. Cerca l'istensione sempre, inspiro su e ancora 1 e 1, vai, spingi, massima estensione, allontana punta delle dita e torna su, dall'altra parte, spingi e allunga, apro e scendo. Iniziamo la nostra tonificazione, allargando di nuovo, arto inferiore, sinistro, maniche vanno su, petto bello aperto, appoggia, mano destra a terra, allunga la sinistra, spingi. Da qua, mano va sul fianco, bombe, dedico dentro, quadricipite bene in contrazione, arto inferiore va su, fuori area, 1, chiudi bene l'addome, lavora bene con l'obbligo dell'addome, 2, attivato e ancora fuori, su 3 e chiudi fuori, 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 fuori su 4. Cerca di arrivare quanto meno con il piede d'alzienza il bacino, 5, chiudi, 6 e ancora fuori, su 7, ancora 8, rimani da qua, piano piano scendo, vado allungare, alto, superiore sinistro, punta delle dita, delle mani e dei piedi più lontano possibile e mentre sali, apri, appoggi il mignolo, pollice verso l'alto, pressione sulla scapola, allunga e ancora fuori, su, resta, 2, restiamo un paio di secondi ogni volta che andiamo su, rimango, 3, e ancora allunga, allunga, allunga e ancora, resta, 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 4, gli stendi più lontano possibile e punta delle dita, delle mani e dei piedi e poi vado in massima contrazione, scappo di invenzione e ancora, su, fuori, 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 6, gli ultimi due, allungo e ancora, fuori, 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 7 e allunga e ancora, fuori, 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 8 e piano piano torna con la mano sul fianco, ne facciamo 6, vai, su, stesso esercizio, vai, fuori, su, 2 e ancora, fuori, 3 e ancora, fuori, 4, quadricite in massima contrazione, 5 e ancora fuori, fuori, su, 6, stop, piano piano scendo, allungo di nuovo e vado ad aprire, rimani, 1, distendi al massimo e ancora, apro, chiudi bene l'addome, pancia ben indietro, 3, inspira e ancora fuori, contrai al massimo, mi resta 4, gli ultimi due, non mollare, fuori, su, 5, ancora 1 e ancora fuori, 6, rimani, appoggio, lo andiamo a fare dall'altra parte, appoggio, allarga e andiamo piano piano su, apri bene il petto, mano sinistra terra, la destra si allontana, spingo e poi, mano sul fianco, agli inferiori iniziano e andiamo su, fuori, 1, sfiora, dentro la giamma, 2, 4 precipite in massima contrazione, fuori, su, 3, ancora fuori, su, 4, scendi, chiudi la giamma, su, 5, scendo, pancia in dentro, con 3, bene, 6, ancora 2, 7 e ancora 8, rimani, piano piano scendo e vado ad allontanare le punte delle dita della mano destra e da qua, mentre sali, apri bene il petto, pressione sulla scapola, mignolo che appoggia, pollici verso l'alto, 1, inspira e ancora, petto aperto, nuca in estensione, 2 e ancora, fuori, 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 su, 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 3, inspiri e ancora, chiudi, stringo, 4, inspiro e ancora, fuori, 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 su, 5 e ancora, chiudi bene l'obbligo della giamma, ripeto, 6, ultimi 2 e ancora, fuori, fuori, su, 7, inspira e allunga fuori, 8, rimani, piano piano riappoggio, manolino sul fiacco, non se ne fanno 6, vai su, fuori, 1, quadriciditi in massima contrazione, chiudi la giamma, su, 2, inspira, chiudi, fuori, su, 3, inspiri, ombelico dentro, fuori, 4, inspira, fuori, su, 5, inspira, fuori, su, 6, piano piano scendo, allungo, punta delle dita delle mani destra più lontano possibile e vai ad aprire, pressione sulle scapole, fuori, 1, inspira e ancora, petto aperto, fuori, su, 2, inspiro, ombelico dentro, stringi, fuori, su, 3, inspira, ombelico dentro, fuori, fuori, petto aperto, 4, inspiro, e stringi bene, su, 5, inspira e ancora, fuori, 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 6, stop, piano piano appoggio, torno su e andiamo a lavorare ancora il nostro fianco sinistro, questa volta ci distendiamo a terra, porti le cosce in linea, ginocchio uno sopra l'altro, l'arte inferiore destra, ginocchio 90 gradi, gomito sotto la spalla, andiamo a staccare il bacino da terra e siamo su, stessa cosa, alto, inferiore, sinistro, basso, fuori, 1, scendo e ancora fuori su 2, scendo e ancora fuori su 3, scendi, ombelico dentro, fuori su 4, scendo, chiudi fuori su 5, scendo, 4, 5, massimo, 3, 6, colore del piede che guarda davanti a te, 7, non ruotarlo verso l'alto, 8, appoggio, mano va più lontano possibile verso terra e poi apri, sboccia il petto e rimani, 1, punta dell'edita lontano e petto aperto, 1, 3, sezione 2, inspira e ancora, petto aperto, chiudi su 3, inspiro, pancia aperta, dentro, apro, 4 e ancora e apri, 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 5, inspira e ancora fuori, 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 6, inspiro e ancora fuori, 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 7, inspiro, fuori, fuori, 8, rimango, petto aperto, appoggia il tuo piede sinistro, stacca il pinocchio destro e rimani su per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, appoggia giù, dall'altra parte 8, stessa identica routine distesa, ginocchio 90 gradi, vomito su tutta la spalla, spalla bene, staccata con trapezio bello scarico, andiamo su e da qua, arte inferiore, fuori, 1, si ora, fuori, su 2, quadricini sempre in massima contrazione, 3 e ancora, fuori, 4 e ancora, chiudi, 5 e ancora, dentro l'addome, 6 e scendo, fuori, su 7 e scendo, fuori, 8 e scendo, allunga, punta di lievita della mano resta più lontano possibile e apro bene il petto, nuca in estensione, pressione sulla scapola, 1, inspira e ancora, apri, 2, inspiro e apri, nuca in estensione, fuori, 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 su 3, inspira e apro, nuca in estensione, fuori, 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 4, inspiro e ancora, apri, stringo su 5, inspira e apri, fuori, 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 6, inspiro e ancora, fuori, fuori, 7, inspiro e ancora, fuori, fuori, 8, rimani, appoggia il tuo piede destro, sacca il ginocchio sinistro, uniscilo al ginocchio destro, rimani per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, appoggiamo, un altro giro, 6 ripetizioni, tutto da capo, sempre in plan facilitato, in decubito laterale, incominciamo a sentire gli obliqui dell'addome, stacca, solo 6, arti inferiori, su, 1, e ancora, 2, chiudi, 3, e ancora fuori, 4, e ancora fuori, 5, e ancora fuori, 6, appoggia, mano lontano, va a sfiorare il terreno, apro il petto e rimani, e resta, 1, inspiro, allungo, allungo, e ancora, apro, nuca in estensione, resta, 2, inspiro, distendi lontano, e apri, fuori, 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 su, 3, inspiro, quadricite, massima contrazione, pressione sulla scapola, 4, gli ultimi 2, e ancora fuori, 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 5, con tre bianni, quadricite, e ancora fuori, 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 per il sesto, e scendo, appoggio, mano su, stacca, il ginocchio destro, rimane per 6, e ancora 5, 4, 3, 2, 1, appoggia, e dall'altra parte, gli ultimi 6, incomincia a sentirsi il lavoro, su, il nostro fianco, inspiro ed espirando, stacca, arti inferiore destro, vai su, 1, e ancora, 2, e chiudo, fuori, 3, pancia in dentro, chiudi, 4, e ancora, quadricite al massimo, 5, ipercontrazioni ogni volta, 6, appoggia, mano lontano, va a sfiorare di terra, più lontano possibile, e apri, nucleo di essenzione, petto aperto, 1, inspira, e ancora, petto aperto, 2, inspira, apri, chiudi bene, addome, petto aperto, 3, inspiri, massimo contrazione, nucleo di essenzione, 4, inspira, e ancora, fuori, 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 su, 5, inspiro, e ancora, fuori, 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 6, resta, e da qui appoggiamo, vai a staccare il ginocchio sinistro, portalo verso il destro, rimani per 6, 5, 4, 3, 2, 1, appoggia, e giù, hai sentito l'intenso lavoro per obbliti dell'addome, un lavoro breve, ma molto intenso ed efficace, mi raccomando, è un po' che non pubblichiamo, ma quest'estate riprenderemo a pieno ritmo, metti un mi piace se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale, un bacio a tutti, e alla prossima, ciao!